Ieri, 30 marzo, per i palestinesi è stata una giornata particolare. La giornata della terra, l'anniversario dell'uccisione di sei giovani che nel 1974 vennero colpiti dai soldati israeliani mentre protestavano per quella che ritenevano l'occupazione della loro terra. Una giornata particolare che anche la comunità palestinese di Bari ha voluto ricordare presso il centro culturale di via Borrelli con una mostra fotografica sulla Marcia della Pace per la liberazione della striscia di Gaza dall'assedio che si è tenuta nello scorso dicembre al Cairo e con una serie di interventi e testimonianze. Noi come comunità palestinese qua a Bari, questa è una grande occasione per ricordare tutti quanti questa importanza di questa giornata. Ricordiamo che noi siamo ancora qui, noi siamo qui e vogliamo la nostra terra. Noi siamo palestinesi e vogliamo vincere la nostra terra. E non è giusto che noi prendiamo la nostra terra e noi non facciamo niente. Al mare è un segno di ricordo.